Sviluppo economico ed occupazione, uno sviluppo economico, ecocompatibile che faccia sì che i nostri giovani non lasciano la terra natia ma arricchiscano il territorio con la propria professionalità. Ne parliamo con il dottor Patrizio Mazza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia domani, fitto presidente. Io ho un mio pensiero che l'economia di questa regione, di questo territorio debba essere ancorata a ciò che il territorio rappresenta. Abbiamo già parlato di turismo e quello è un settore molto importante. Parliamo di agricoltura, parliamo di quei prodotti meravigliosi che vengono esportati un po' dappertutto e che purtroppo subiscono la crisi anche loro di quello che è il momento. Nella zona nord soprattutto della provincia di Taranto, ma anche nel Foggiano, io penso alla provincia di Foggia, anche nelle Ceci ci sono dei prodotti agricoli, delle situazioni molto particolari e molto da valorizzare. Poi penso a tutto ciò che il territorio offre in termini di storia del territorio, pensate ai trulli, pensate ai muri a secco, pensate a quello che è la struttura del territorio. Ecco, su tutti questi settori ci sono delle professioni che si vanno perdendo. Bisogna riportare i giovani a queste professioni che si vanno perdendo perché questo è il valore vero di questo territorio. Esiste poi la trasformazione. I prodotti che questa terra produce devono essere trasformati in loco. Non deve essere che le olive vengono esportate chissà dove o l'uva venga portata via o le mandorle o le ciliegie o qualunque cosa, pomodori, qualunque cosa che la terra produca venga portata fuori e manipolata da altri. Deve essere in loco creato il prodotto, il marchio d'occo, la valorizzazione del prodotto, tutto ciò che fa più ricchezza di questo territorio. E ovviamente per portare avanti questo non può essere che vadano avanti solo le persone anziane che stanno ormai per mollare, anche per ragione di età, di salute, di quello che ovviamente la vita gli ha dato in termini di sacrificio. Per cui occorre che tutto questo venga preso in mano dai giovani e i giovani devono essere incentivati in questo. Se io dovessi investire oggi e investire sul serio, non dare a tutti quanti le 700 euro o quello che è, ma dare la possibilità di crearsi un mestiere, di crearsi un vero futuro che sia proiettato poi nel tempo. Ed è questa la ricchezza vera di questo territorio che va ripresa, va ricostruita. Pensate a tutto ciò adesso che c'è. Adesso passavo poco fa fra state e cosa, c'è una struttura bellissima, una cosa stupenda, chiusa, abbandonata. Sembra una reggia vederla da fuori, una cosa meravigliosa. Pensate a tutte queste strutture che devono essere recuperate e ci vuole fiorfiore di architetti, fiorfiore di ingegneri, gente che quindi ha voglia di studiare e che quindi venga ripristinata e venga riportata in questo territorio per poter effettuare questo recupero, questo mega recupero di questa terra che è bellissima e che va utilizzata nella Puglia domani, dai giovani soprattutto.